Tu ci vai in palestra? Io vado alla Total Reap Fitness, ma non mi alleno. E cosa fai? Investimenti. Oh, ecco uno dei miei investimenti. Cheryl, il duro lavoro ripaga, continua così. Quindi i tuoi investimenti sono donne? Sì, donne un po'... Come posso dirlo in modo delicato? Delle ciccione. Perciò vengo qui, le seguo con grande attenzione, poi quando diventano gnocchi, chi è il primo con cui vanno? No, quello che ha investito su di loro quando erano grasse. Wow, non so se sono decisamente disgustato o impressionato. Certo, non tutti gli investimenti pagano i dividendi. Vedi quella vicino al distributore, Tony? Un'altra merendina sarà un investimento a fondo perduto. Ciao, Barney. Becky, la cicletta ellittica ti fa davvero bene, gran cosa. E invece è una di quelle che riuscirà a ripagare gli azionisti. Prendo una politica fiscale aggressiva nel mio futuro e andiamo.